Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast, oggi è un argomento molto caldo, un argomento non bellissimo sotto un certo punto di vista perché andiamo a parlare delle cadute, andiamo a parlare di quanto stanno diventando sempre più frequenti, in realtà più che frequenti vi direi quanto sono incisive perché se parliamo del giro del finato quello che è successo, se parliamo del giro dei Paesi Baschi, sono cose che non si sono viste in passato, ma prima di andare a vedere nel dettaglio l'argomento di oggi vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, è totalmente gratuito a voi non costa niente, ma per aiutarmi a fare una grande differenza e mi aiuta anche a portare nuovi contenuti all'interno di questo canale e ora andiamo a parlare dell'argomento della settimana che sono le cadute che stanno succedendo ultimamente in gruppo, questo argomento mi è venuto in mente ovviamente ispirandomi alla caduta che è successa al delfinato nella tappa numero 5, quando praticamente tre quarti del gruppo è finito a terra, è finito a terra in un tratto in discesa, pioveva, sono caduti brutalmente tanti ciclisti, per fortuna nessuno si è fatto davvero male, a quelli che è andata peggio sono stati Kruisvik e Van Barle del team Visma che quest'anno non gli sta andando bene una, perché se guardiamo da inizio anno hanno iniziato con Wingegaard, Van Aert, Gesink al Giro d'Italia sempre, Wittebruchs che gli è andata male al Giro d'Italia, non per una caduta ma perché è stato male per una bronchite e dopo l'anno passato che hanno avuto, dove hanno vinto tre corse a tappe, sono stati proprio l'unico team a vincere in un anno i tre grandi giri ma oltre a quello hanno vinto anche molto altro, quest'anno un anno stregato per i gialloneri e non si sa ancora come si presenteranno al tour perché non si sa la condizione che avrà Wingegaard dopo l'altra caduta brutta che volevo affrontare oggi al Giro dei Paesi Baschi, dove là invece non se la sono cavata così bene come al Giro del Delfinato, forse c'è una differenza da notare in questo caso che al Giro del Delfinato pioveva quindi sono caduti in tanti, sono caduti come se fossero in una saponetta ma l'acqua ha aiutato a scivolare e quindi secondo me ha un attimo attutito un po' la caduta, al Giro dei Paesi Baschi è stata leggermente diversa la caduta perché era in una curva, era asciutto e là in tanti si sono fatti male, in primi Swingegaard ma oltre lui anche Jay Vine e tantissimi e quindi andiamo a capire oggi quali possono essere le cause di queste cadute così brutali che negli anni scorsi non succedevano così spesso e poteva capitare ovviamente sì delle cadute dove cadeva un po' di gente oppure delle cose dove qualcuno si faceva male ma non come in questi casi, è già il secondo episodio che succede nel giro di qualche mese, speriamo di non vederne di più però. Sono andato ad analizzare le cadute in questo caso e secondo me sono vari gli aspetti che possiamo andare a vedere, in primis la velocità, la velocità che è diventata molto più alta in gruppo rispetto degli scorsi anni. Non a caso i corridori stanno facendo delle medie sempre più alte e la maggior parte delle gare se guardiamo le medie escono fuori delle medie folli rispetto agli anni scorsi sono molte più alte, difatti fanno praticamente i record della corsa in quasi ogni corsa. Non a caso un esempio che vi voglio portare è l'ultimo corridore della Paris-Giroubaix, è un corridore che adesso non ricordo il nome ma vi metterò in sovraimpressione una foto del team Q36, arrivato ultimo quest'anno, ha tenuto una media più alta della lontana Paris-Giroubaix vinta da Cancellara e Cancellara in quell'anno ovviamente aveva vinto, giusto per avere un'idea di quello che sta succedendo. La prima cosa che è cambiata negli ultimi anni e che si è voluta sempre di più sono i materiali, in primis la bicicletta ma non solo quella, l'abbigliamento sta facendo passi da gigante, l'aerodinamica si è sviluppata tantissimo e questo oltre alla bicicletta siccome è la seconda cosa che dobbiamo andare a vedere, è la seconda cosa che fa guadagnare i corridori velocità, che grazie all'impatto aerodinamico minimo che hanno riescono ad ottenere delle velocità altissime, ma oltre a questo dopo andremo a vedere nel dettaglio tutti i componenti, anche i caschi, i caschi sempre più aerodinamici, i caschi che ti fanno guadagnare sempre più watt. Non a caso avevo fatto poco fa un video che mi è stato brutalmente copiato ma questa è un'altra storia che vi lascio qua, nelle schede dove vado a parlare di come si sono evoluti i caschi negli ultimi anni e quanto vantaggio ti possono dare se sommiamo di fatto il vantaggio dei caschi, il vantaggio dell'abbigliamento, il vantaggio dei copriscarpe, delle scarpe, della bicicletta, il guadagno che si fa in velocità rispetto a tanti anni fa è maggiore e quindi poi di conseguenza le cadute che vanno a succedere succedono a velocità più alte e poi le conseguenze sono più gravi, succedono cadute con più corridori che si fanno più male e questo non è una bella cosa e chissà se qualche marchio ha già pensato a qualche evoluzione dei loro componenti o se già l'UCI ha già in mente un qualcosina da far mettere in più i corridori, magari delle gomitiere, delle ginocchiere, mi immagino delle cose ultrapanno ma qualcosa comunque si dovranno pensare. Sto pensando non alla strada ma alla mountain bike ho visto delle foto di Puc Peter Se, quando prova il circuito di Coppa del Mondo di cross country, utilizza le protezioni. Anche stiamo parlando della vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno di mountain bike, cross country che guida molto bene la bicicletta, comunque anche là i percorsi sono sempre più tecnici, sono sempre più pericolosi e nel suo caso preferisce provare in sicurezza mettendosi ginocchiere e gomitiere. Poi ovviamente in gara non possono esserci ma chissà se sulla strada c'è qualche marchio che si inventa un qualcosa, una protezione in più per i ciclisti per evitare di farsi tanto male quando cadono. Penso che sia in realtà una cosa abbastanza improbabile perché vuol dire un indumento in più da mettere, quindi un indumento che dà fastidio, che magari fa caldo quando ci sono le trappe troppo calde e quindi la vedo molto dura ma hanno già provato a costruire degli airbag nei caschi che magari potrebbero salvarti la vita, che magari hanno quella protezione in più, che magari andranno a mettere poi in tutti i caschi un agengio minuscolo tipo grande come il mio microfono dentro il casco che in caso di impatto un po' più forte si va ad aprire e va a proteggere almeno la testa e magari anche le spalle. Sto sparando, mi sto inventando io le cose nel mentre che parlo, non avevo programmato niente a dire queste cose e mi sto inventando anch'io qualcosina. E ovviamente però scrivete anche voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'argomento sicurezza. Vi avevo accennato prima che andavamo a vedere tutto quello che è cambiato ma adesso andiamo a vedere più nel dettaglio i componenti perché la prima cosa che è cambiata si sta evolvendo sempre di più negli anni alla bicicletta. Una cosa che fa aumentare di più la velocità nella bicicletta sono le ruote, le ruote e copertone che siamo passati da dei copertoni da 23 o 21 che usavano qualche anno fa, anzi utilizzavano i tubolari una volta, a dei tubeless 28-30 che danno più scorrevolezza se visto ma soprattutto ti fanno guidare tanto più forte. In discesa si va più forte con dei copertoni da 28 o da 30 e anch'io che non vado fortissimo mi sono accorto di questa cosa. Un esempio l'ultimo video che ho registrato on board e che vi lascio la scheda qua in alto a sinistra se non l'avete visto, anzi a destra. Se non l'avete visto quando ho registrato quel video e seppur l'ho registrato in totale sicurezza perché dove non avevo la visibilità non uscivo dalla corsia, alla fine poi sono arrivato a caso, ho visto il tempo, ho tirato giù un minuto in quella discesa rispetto al 2016. Quando ancora correvo, quando ero un agonista che avevo i copertoni da 23 però. E quindi questa è una cosa che è cambiata e che fa tanta differenza ma oltre alle ruote e copertoni anche le biciclette sono più aerodinamiche, sono più rigide e quindi il complesso della bicicletta è tanto più veloce. Dopo la bicicletta vi ho parlato dell'abbigliamento. L'abbigliamento anche qua vi ho accennato nel video che vi parlavo prima dei caschi e anche dell'abbigliamento. Adesso in praticamente tutte le gare i ciclisti utilizzano il body. Dei body che sono molto aerodinamici, non sono come le tute che si utilizzavano una volta, che ti fanno guadagnare anche quelli un bel po' di velocità e sono anche più veloci in questo caso dei body che utilizzavano una volta nel cronometro. Quindi questo unito alla bici ti fa guadagnare molta molta più velocità. Body, casco, tante volte li vediamo utilizzare anche copri scarpe aerodinamici che una volta li vedevamo solo nel cronometro e quindi questo è tutto un mix di cose che fa aumentare la velocità e che quindi poi quando succedono le cadute vediamo delle cadute con tanta più gente coinvolta. L'esempio perfetto è quello che è successo al giro del delfinato e corridori che si fanno più male, in questo caso l'esempio è quello che è successo al giro dei paesi baschi. E anche qua fortunatamente l'unica cosa che protegge noi ciclisti quando siamo in bici è il casco, anche quello si è evoluto sempre di più e fortunatamente ha portato diverse innovazioni tipo il sistema MIPS che ho usato da diverse marche, ma ci sono molti altri sistemi che ti vanno comunque a proteggere. Quindi fortunatamente c'è stata una bella evoluzione anche sui caschi. E detto questo però scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo argomento e mi raccomando condividete il più possibile il video così sono curioso a vedere che commenti saltano fuori qua sotto. E se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima! Grazie!